ok ragazzi benvenuti all'ottava parte della mia guida a weplay ok nella scusate nella settima parte avevo fatto il settimo livello pesca colorata e ora facciamo carica con la pulsantiera con la pulsantiera a sinistra inclina il telecomando con la pulsantiera a sinistra inclina il telecomando we avanti per correre e di lato per girare sollevalo per saltare perché mentre bisogna inclinare il telecomando non inclinarlo si praticamente puntarlo verso davanti non così inclinarlo si verso davanti e per saltare bisogna scuotere ok praticamente bisogna travolgere gli spaventapasseri come vi dice all'inizio quello lì che salta rosso vale 10 punti oddio si fate largo scusate cari spaventapasseri devo passare io levatevi poi si si dai prendilo trovagilo perfetto perché perfetto ah perché l'ho presi tutto ok 327 punti miglior record no non miglior record secondo record va bene ok oddio quanto è durata poco questa parte e come sempre per questa parte è tutto ci vediamo ovviamente alla prossima e ultima ciao ciao